Torna l'allarme disoccupazione giovanile. In media in Italia quattro giovani su dieci non lavorano. Il 39,4% è il numero più alto da ottobre 2015. In alcune città del sud si raggiunge anche il 60%. Lo dichiara l'Istat che aggiunge sempre più persone smettono di cercare una occupazione perché scoraggiate. Ma come uscirne con le ultime riforme del Jobs Act della buona scuola e quali sono gli strumenti a disposizione dei più giovani? Ne abbiamo parlato con un economista specializzato nello studio dell'innovazione. Pietro Paganini, lo ha intervistato per noi. Giorgio Schiavone. La nostra economia è un'economia avanzata che però fa fatica a creare innovazione, fa fatica a creare posti di lavoro che richiedono grandi capacità intellettuali, intesa di grandi conoscenze, che significa che dobbiamo specializzarsi ulteriormente nel fare innovazione. Un'azione come quella del Jobs Act può essere apprezzabile se misura temporanea. Cioè lo faccio perché ho bisogno nel mediato di creare occupazione, gonfiarla se vogliamo, a un costo elevato. Ma nel lungo termine non è un sistema sostenibile questo perché se mi aumento di 0, ogni tot, ma spendo tantissimo, è insostenibile. La buona scuola va nella giusta direzione nel rapporto scuola-lavoro. Ha colto quali sono le difficoltà del sistema del lavoro, però chiaramente non si può fare una riforma del lavoro che porti più giovani senza una compartecipazione di altre riforme, per esempio la riforma del mercato del lavoro. Quello che la scuola dovrebbe fare oggi non è tanto dare solo delle enuzioni, ma è preparare all'ingresso in un mondo del lavoro dove i posti di lavoro, le professioni stanno cambiando. Le do un numero, i giovani, le nuove generazioni, quelli che non sono ancora entrati nel mondo del lavoro cambieranno tra i 5 e i 7 posti di lavoro. Significa non posti luoghi, significa professioni, significa mansioni. No, ma perché non la scuola non ciò Grazie.